Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale! Io sono Andrea, io sono Anita, io sono Tania, io sono Sven e io sono Ralf e questo è Curiosando Lanzarote! Innanzitutto ragazzi volevo ringraziare Tania, Ralf e Sven per il loro contributo nella presentazione di quest'oggi. È stato un bellissimo incontro e ancora li ringrazio per quello che ogni giorno fanno per noi. E quindi oggi siamo qui a Porto del Carmen per vedere gli ultimissimi preparativi per quanto riguarda l'Ironman di Lanzarote, la competizione più importante sportiva che si fa qui sull'isola. Quindi adesso regia vai con il video e ci vediamo dopo per una importantissima notizia per tutte le persone che vorranno venire al più presto qui in vacanza. Quindi regia vai con la sigla e poi il video. Ciao! Ciao! Ragazzi qui piano piano tutto inizia a prendere una forma. Qui come potete vedere gli stalli dove verranno posizionate le biciclette sono stati tutti quanti già posizionati e adesso ci avviamo dove ci sarà la partenza vera e propria dell'Ironman. Purtroppo ragazzi è tutto quanto chiuso e sigillato quindi adesso per andare a vedere dove partiranno dovrò andare giù dalla spiaggia e faccio il giro e intanto vi faccio vedere un po' qua la spiaggia com'è. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui è dove entreranno in acqua tutti i partecipanti per fare la prima parte che è la prova di nuoto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Già stanno procedendo con la sistemazione delle bici. Andiamo a vedere un po' più da vicino. Guardate ragazzi i controlli sono molto stretti e regolari. Qualsiasi persona che vuole entrare adesso nel parco di cosa mi sta regolando la febbre. Tutti quanti credo abbiano dovuto portare dei certificati, dei test per poter accedere alla gara. Bene ragazzi questo è quanto mi raccomando. Vi aspetto tutti quanti vi aspetto tutti quanti domani a partire dalle mie sette meno un quarto qui su Curiosando Lanzarote per una diretta che andrà ad oltranza. Quindi mi raccomando venitemi a fare compagnia che domani sarò solo soletto. 8 ore. Ed invece per quanto riguarda la notizia di oggi vi posso finalmente dire che Lanzarote passa a livello 1. Avendo tutte quante le carte in regola per farlo già ci hanno fatto aspettare un po' però finalmente siamo riusciti a passare a livello 1. Bene anche per oggi qui da Lanzarote è tutto. Io vi do un abbraccio e vi aspetto domani mattina per la diretta dell'Ironman di Lanzarote qui da Puerto del Carmen. Un abbraccio a tutti e buona serata e forza Inghilterra!